Come rispondi a Rosanna? Io rispondo che le persone che stanno utilizzando gli altri sono uno, due e tre e utilizzano me. Guarda che ti sbagli. Secondo, non hanno bisogno di utilizzare nessuno. Mi ha detto sei famosissima. Secondo. Terzo. Cioè lei ti ha detto che eri famosissima quando vi siete conosciute? Sì, sei famosissima, sei fortissima, sei bravissima. Chi l'ha detto io? Sì. Terzo. Tu sei capace di inventarti di tutto. Ma guarda che è tutto registrato, quindi c'è poco da fare. Anche se è registrato forse l'ho fatto per farti piacere perché in quei giorni avevi la preoccupatissima del grande teatro. Posso parlare anche io dopo che avete detto tutte queste cattiverie. Ah, anche lei ha detto a me? Sì, tu l'hai detto sei molto forte. Sì, è vero. C'è una cosa che è assolutamente imperdonabile, che non perdonerò mai a questa signora, a parte che io l'ho accolta e seguita con grande generosità e spontaneità, dandole consigli, eccetera, eccetera. E credo di aver fatto la stessa cosa. E va bene, come ho fatto con Sara, ma sappiamo che la gratitudine non esiste. Però quello che lei ha detto in merito al mio sentimento nei confronti di Giuseppe, non glielo perdonerò mai. Non glielo perdonerò mai come non l'ho perdonata a lui, all'amica sua, eccetera, eccetera. Chi finalmente ha, chi qui dentro ha l'intelligenza e mi ha vista, sa. Ma lei è arrivata dopo quattro giorni e si è permessa di dire che io utilizzo le persone. Mi sembra che qui l'unica persona utilizzata sono io. Grazie a tutti.